Tra le 14 squadre che partecipano alla Pro League degli Emirati Arabi Uniti, ce n'è una che parla italiano. È l'Al Nasser di Dubai, ad allenarla dal gennaio del 2011 Walter Zenga. Quadiuvato dal vice Massimo Petrazzini, insieme all'Umo Ragno nel 2009 a Palermo, è dell'assistente tecnico Michele Bon. Io sono felice di quello che sto vivendo. Esattamente adesso il mio presente si chiama Al Nasser, si chiama Dubai e in questo momento mi sto godendo queste cose qua. Qui purtroppo il calcio non è seguito numericamente allo stadio e questo dà un'impressione di livello più basso e di mancanza di agonismo. In realtà non c'è mancanza di agonismo e mancanza di attenzione, manca solo il contorno di avere invece che 10.000 persone, ne è 1.000. L'ultimo ad arrivare qui a Dubai e fiora all'occhiano della campagna qui sì del club è l'ex attaccante di Catania, Napoli e Novara, Peppe Mascara. Ero consapevole di venire qua ed ero sinceramente predisposto a fare bella figura perché quando sono arrivato qua loro erano un po' cose così e quindi era un po' difficile. Però ce l'ho messa tutta, mi sono calato subito nella loro mentalità, li ho rispettati sin dal primo giorno e adesso faccio parte di loro. A far parte della Nasser c'è anche il giapponese Morimoto, arrivato in pressito dal Catania. Sì, sono venuto qui perché mi ha chiamato mister, anche Peppe, quindi sì. Arrivato due settimane fa un po', ancora devo capire tante cose, ma sto capendo piano piano e sì sicuramente farà molto bene. Ci puoi credere, è l'unico giapponese che è venuto a Dubai e ha comprato l'iPhone 4. Per quanto riguarda quel giapponese basta più, non ce la faccio più. Sono andato via da Catania, sono andato via a Napoli e lì non me lo sono ritrovato. Sono andato via da Napoli e me lo sono ritrovato a Novara. Sono andato a 6-7 mila chilometri di distanza, però sono ritrovato qua. Basta, non ce la faccio più. Fondata nel 1945, l'Al Nasser è la più antica e conosciuta società calcistica del paese del Golfo Arabo. È la squadra che ha fatto conoscere e diffondere il calcio qui negli Emirati Arabi Uniti. Nei suoi 68 anni di storia, il club emiratino ha vinto molti trofei nazionali, tra cui tre volte la prestigiosa Coppa del Presidente, che dà l'accesso diretto alla Champions League Asiatica, ma solo tre volte, nelle 38 edizioni sino ad oggi disputate, è riuscito a laurearsi campione nazionale. L'ultima volta è stata nel 1986, digiuno di oltre un quarto di secolo che la dirigenza dell'Al Nasser, che in arabo vuol dire vittoria, spera di interrompere con Walter Zeng. Tutti continuano a ripetere, è 20 anni che non vinciamo, è 25 anni che non vinciamo. Il fatto stesso di essere qua da due anni e di avere il contratto ancora per un anno, ti dà la possibilità di pensare, sì, loro hanno fiducia. E questa fiducia deve essere ripagata, chiaramente vincendo, ma chiaramente anche attraverso il lavoro giornaliero del campo. Io penso che i miei dirigenti in questo momento apprezzano il fatto che loro hanno un allenatore e uno staff tecnico che lavora seriamente, che lavora 25 ore su 24. Capitan Zeng iscriviti al giallo del campo. e stammarato a scopervare. Ma c'è una città di quattro delle persone, nella città di disabilità. Ma c'è una città di disabilità. Ma c'è una città di commettere i luoghi del progetto. Adesso non ce ne prendo una cultura, che è un'accommodo del progetto. Non ci prendo una città di chi era il lavoro. Ma c'è qualcosa di più! Ma c'è una città di un'automità, ma c'è un sistema. La città di 100% è una città di daparare. Ma c'è una città di un'automità. Da Dubai per Sky Sport 24 Federico Lo Giudice.